Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, ancora un assalto armato ad un furgone portavalori sull'autostrada 14, questa volta nel tratto Teramano nei pressi del casello di Mosciano Sant'Angelo. Il colpo è fallito, ma ci sono stati momenti davvero da far west lungo la nostra autostrada. Andiamo a vedere insieme il servizio su questa storia di Francesca Romanatesti. Sono le 22 di mercoledì sera quando il commando inizia l'assalto al blindato del gruppo marchigiano Fitist, che al suo interno trasportava l'incasso di alcuni supermercati. Una somma stimata di 1,8 milioni di euro. L'inferno si consuma in pochi istanti. Sull'A14 tra Mosciano e Tortoreto si sprigionano le fiamme di due Tirmis di Traverso e dati alle fiamme per bloccare il traffico. Il portavalori viene bloccato dalle bande chiodate e gettate sull'asfalto. Un muletto poi lo ribalta. Si sentono esplodere colpi di arma da fuoco, forse Kalashnikov. Ad entrare in azione un numero di malviventi non precisato tra 7 e 10 pare dalla Centopugliese. Il colpo fallisce perché nel tentativo di aprire le lamine del furgone scatta l'allarme e allora si danno alla fuga con un SUV che più tardi sarà sostituito con un'auto di minore cilindrata. Il tratto scelto per l'assalto costeggia la zona industriale di Mosciano, consentendo una rapida fuga, evitando così l'autostrada. Arrestare ferita una delle quattro guardie a causa del capovolgimento del mezzo. Difficile anche l'intervento dei soccorsi a causa del blocco creato dai mezzi pesanti. Un modus operandi che riporta alla mente l'assalto avvenuto il 26 aprile scorso, sempre sull'A14, ma all'altezza di San Giovanni Teatino. In quell'occasione il colpo era stato compiuto alle prime ore del mattino e anche in quel caso erano state utilizzate e bande chiodate a terra. I mezzi pesanti avevano bloccato la corsia e la fuga era avvenuta per una strada parallela all'autostrada. Un colpo fallito per l'arrivo repentino della polizia. Il 17 maggio scorso poi una nuova analogia con un colpo avvenuto, sempre sulla A14, tra valle del Rubicone Cesena Sud. Un commando formato da 12 persone, ancora colpi d'arma da fuoco, ancora mezzi incendiati e questa volta un bottino di 600 mila euro. E proseguiamo con la cronaca. Sono stati parenti a fare una macabra scoperta questa mattina a Teramo in un locale commerciale sfitto di Via De Gasperi. È stato trovato senza vita un 46enne teramano, probabilmente per lui è stata letale una overdose di droga. Vediamo il servizio di Paolo Rezzetti. Lo hanno trovato riverso sul pavimento di un negozio sfitto in Via De Gasperi a Teramo in avanzato stato di decomposizione. Di Francesco Caporali, 46 anni, non si avevano più notizie da domenica con i familiari che avevano provato inutilmente a contattarlo al telefono e sono stati proprio i parenti, la sorella ed il cognato, a scoprire il cadavere all'interno dei locali di proprietà della vittima al pian terreno di uno stabile dove abitano anche alcuni suoi parenti. Parenti che avevano notato la luce del locale sfitto accesa e un odore nauseabondo provenire dall'interno. Dopo aver infranto la vetrina dell'ingresso, sono entrati e hanno fatto la macabra scoperta avvertendo le forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dal medico del 118 intervenuto sul posto attraverso l'esame esterno del corpo, la morte di Caporali potrebbe risalire ad almeno cinque giorni fa. La causa della morte, molto probabilmente, è da attribuire ad una overdose di droga. Alcanto al corpo, infatti, sono stati rinvenuti una siringa ed un laccio emostatico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante, della polizia di Teramo ed il personale della scientifica per i rilievi di rito. E purtroppo è un 2 giugno di sangue anche sulle strade abruzzesi. Un incidente stradale a Manopello è costato la vita a un 25enne, Claudio Adriano, 25 anni, residente a Roccamontepiano. Il giovane, che era la guida di una BMW di proprietà del padre, assieme ad altri due ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura finendo in un dirupo. Le conseguenze dell'impatto sono risultate fatali per il giovane che è deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118. Un altro giovane di 31 anni di guardia grele è rimasto ferito, riportando la frattura bilaterale della mandibola. Ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell'ospedale di Pescara è stato giudicato guaribile in 45 giorni. Il terzo giovane, un 21enne di Roccamontepiano, è rimasto fortunatamente illeso. L'auto ha riportato danni ingenti ed è stata sottoposta a sequestro. La salma dei giovani è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri delle stazioni di Manopello e di Letto Manopello, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Popoli. E ancora, morti in seguito ad un frontale tra due auto avvenuto sulla superstrada dell'Iria, all'altezza di Balzorano, in provincia dell'Aquila, in un incidente avvenuto poco prima delle 6. Si tratta di un 26enne di Avellino. Coinvolti nell'incidente stradale anche altre tre persone che sono state trasportate all'ospedale di Avezzano in grave condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Avezzano, che hanno provveduto a liberare le due corsie stradali dalle autodistrutte, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. E adesso cambiamo argomento e passiamo ai festeggiamenti per la festa della Repubblica. Ovviamente ci sono state celebrazioni un po' in tutta la regione. Noi andiamo a Pescara, che ha ricordato i 70 anni dalla nascita della Repubblica con una cerimonia che si è tenuta in largo Mediterraneo alla presenza delle massime autorità civili e militari. Vediamo. Eccellenza, Pescara ha ricordato il 2 giugno una ricorrenza non solo per ricordare ma per rappresentare i valori importanti della Repubblica italiana. Sì, ieri sera a Palso di Governo abbiamo sottolineato questo. Noi non celebriamo la nascita della Repubblica, ma celebriamo più che altro la nascita della democrazia, il modo di vivere con cui ci siamo abituati ormai da 70 anni e che nessuno ci può togliere. Se non ci sono i valori non possiamo andare avanti. Con la testa alta. Tanti studenti, tanti giovani oggi per riaffermare l'importanza dei valori della nostra Repubblica. Eh sì, 70 anni sono un lasso di tempo ampio, sono i 70 anni della nostra Repubblica ma sono anche i 70 anni della nostra democrazia che, non dimentichiamo, è nata sulle ceneri e sulle macerie fumanti della guerra e sul delirio del fascismo. E poi c'è anche il 70, ci sono anche i 70 anni del voto femminile, una conquista importante che oggi si dà per scontata forse, ma che non lo era certamente 70 anni fa. E poi un pensiero che magari non c'entra molto, ma secondo me sì, a Sara di Pietrantonio è quella ragazza di Roma che ha fatto una fine orribile, strangolata e poi bruciata dal suo fidanzato. Il voto femminile è importante, ma anche il rispetto delle donne lo è altrettanto e mi sembra che la cittadinanza sia stata sensibile sul punto. Torniamo a Teramo per parlare di politica. Continuano le trattative per cercare di sbrogliare la matassa della crisi al comune di Teramo. Ieri l'ennesimo incontro, l'ennesimo vertice di maggioranza tra i gruppi politici che sostengono il sindaco Maurizio Brucchi, ma la civica di Di Dalmazio conferma di voler restare fuori dalla maggioranza il servizio. Al centro per Teramo la lista che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio resta fuori dalla maggioranza di centrodestra. È l'unico dato certo dopo la riunione che si è tenuta ieri sera e che doveva discutere del rimpasto di giunta per il varo del Brucchi Ter. I Dalmati in un comunicato spiegano che non ci sono le ragioni e le condizioni per un rientro organico in maggioranza e quindi continueranno a votare e valutare i provvedimenti caso per caso. Il sindaco Brucchi avrà altre 24 ore di tempo per continuare l'opera diplomatica ma lo spettacolo che sta andando in scena in questi giorni certamente non è dei più edificanti. Lo stesso primo cittadino in settimana aveva assicurato che la giunta sarebbe stata pronta prima del weekend e solo il tempo potrà dire se sia vero oppure sia una promessa da marinaio. Dal comune fanno sapere che da parte delle forze che compongono la maggioranza c'è la volontà di proseguire l'esperienza di governo e in questa direzione si muove la sottoscrizione del documento programmatico imbastito dal primo cittadino che reca oggi in calce 17 firme che potrebbero però salire a 19 se i fratelli d'Italia, Sbraccia e Micheli decidessero di tornare nella corte di Brucchi. Sicuramente decisivi nelle prossime ore per sbloccare la situazione o per aggravarla definitivamente saranno i nomi dei nuovi assessori che il sindaco metterà nero su bianco ma soprattutto gli impegni che il primo cittadino chiederà ai gruppi politici. Il tempo stringe però il 14 giugno c'è il voto di bilancio. Adesso siamo ai trasporti. La compagnia riminese a Ervallè nella giornata di ieri ha comunicato a tutti gli utenti la sospensione dei voli per problemi tecnici. Sospesi dunque anche tutti i collegamenti con l'aeroporto d'Abruzzo. Ervallè pubblica sul suo sito una comunicazione agli utenti che recita così per motivi di carattere tecnico le prenotazioni per i voli sono momentaneamente sospese. Ci scusiamo per il disagio causato. Sospesi dunque i collegamenti con l'aeroporto di Pescara da e per Catania, Tirana e Olbia. Sempre sul sito di Ervallè si legge dell'atterraggio di emergenza avvenuto a Catania lo scorso 30 aprile causato dalla mancata estrazione del carrello anteriore dell'aeromobile. Un nuovo colpo per lo Scala Bruzzese dopo il caso del taglio dei collegamenti con Fiumicino e la pagina aperta da Ryanair sulla sua dipartita. Proprio ieri però la Saga, società di gestione aeroportuale, comunica i dati degli ultimi cinque mesi sul volume del traffico che attesta un'ascesa significativa. 226.450 unità che creano un incremento del 6% sul progressivo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo stesso mese di maggio registra un più 4% rispetto al 2015. Risultati che fanno esultare Saga alla luce del taglio con l'Hub di Fiumicino dalle enormi incertezze create dall'annuncio di Ryanair, nonché prosegue la società in un comunicato, i gravi allarmi procurati dagli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles. Aggiungasi inoltre le gravi conseguenze di una vera e propria aggressione mediatica di un certo e prevenuto giornalismo scandalistico e in parte della politica che hanno inciso profondamente sui coefficienti di reputazione dello scalo. Un vero e proprio sfogo che riguarda le notizie trapelate nei mesi scorsi che hanno visto l'opposizione chiedere a più riprese il commissariamento di Saga. Secondo Saga inoltre il mantenimento delle posizioni e dell'ulteriore sviluppo di traffico aereo sarebbe conseguenza di corrette intuizioni che hanno portato all'attivazione di nuovi collegamenti con hub alternativi come gli Scali di Linate e Bergamo-Ori al Serio e nei prossimi mesi l'avvio del collegamento con Bucarest tramite Witzar e con Torino sempre a mezzo Ervallè. E adesso siamo alla sanità e al caso di Legionella nell'ospedale di Chieti. Si terrà domani dalle ore 20 e fino alle 6 di sabato l'intervento di shock chimico che prevede l'immissione massiccia di cloro nella rete idrica dell'ospedale di Chieti per la disinfezione delle tracce di Legionella individuate in alcuni rubinetti. La direzione medica del Santissimo Annunziata ha fornito istruzioni agli operatori da condividere con i pazienti e seguire con attenzione per favorire l'efficacia dell'intervento. È previsto infatti che rimangano chiusi i rubinetti di lavabi, docce, vasche, bidet, pozzetti e simili mentre sarà possibile esclusivamente l'utilizzo dei water e dei relativi scarichi al fine di garantire in tale periodo l'approvvigionamento di acqua per le pratiche assistenziali o le altre necessità non alimentari all'interno dell'ospedale. Dalle ore 16 un'autobotte della protezione civile provvederà a soddisfare eventuali richieste distribuendo all'occorrenza taniche di acqua direttamente nel reparto interessato. Dovrà inoltre essere garantita in tutto l'ospedale l'accessibilità in tutti i locali dove sono presenti terminali idrici ovvero studi ambulatori, magazzini, depositi e aree tecniche. Nella mattinata di domani in tutte le unità operative saranno apposti cartelli che indicheranno a pazienti ed operatori il divieto di utilizzo di rubinetti e simili. Andiamo a Pescara dove questa mattina è stata inaugurata la terza edizione di Sottocosta Kermes dedicata agli amanti del mare. Sono oltre 70 gli espositori di questa edizione. Vediamo. Tanti visitatori al Marina di Pescara per la terza edizione di Sottocosta. Presidente Becci, una grande soddisfazione, è una manifestazione che cresce anno dopo anno. Sì, quest'anno diciamo che ha pagato molto questa collaborazione con il Mad Festival di Gaeta organizzato dalla Camera di Commission di Latina che ci ha portato un numero cospicuo di espositori in particolare dall'altra parte del nostro paese. Sono aziende che vengono dal Tirreno. È la prima volta che c'è un numero così importante. Noi abbiamo l'ambizione di far diventare di questa manifestazione l'evento centrale per la valorizzazione del nostro porto turistico. La Lega Navale Italiana ha proprio come obiettivo quello della divulgazione della promozione della nautica. Esattamente, noi siamo un'associazione che si occupa siamo la parte, la sezione di Pescara della Lega Navale Italiana che è un'associazione nazionale che ci occupiamo di divulgazione della cultura del mare delle attività sportive specialmente rivolte ai giovani. Lega Navale che fa molta attività sul territorio. Sì, sì, noi ci occupiamo in tre campi principalmente quello della vela, quello della canoa kayak e quello della pesca sportiva. Presidente, possiamo dire che con questa manifestazione si apre la stagione estiva del Marina di Pescara a tanti gli eventi anche per la prossima estate? Il porto turistico va vissuto anche al di là della bellezza del momento che ricorda le vacanze e in questo momento pensare alle vacanze non è assolutamente sbagliato. Noi puntiamo molto anche come attrazione per quella che era la parte commerciale diversi operatori sono qui presso il porto turistico e in questi anni abbiamo risposto alla crisi investendo su questa infrastruttura che riteniamo centrale, centrale dell'economia della nostra città e della nostra provincia. Adesso restiamo alle manifestazioni perché da domani e fino a domenica 5 giugno Castelli ospita la manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica tre giorni di argilla, arte e artigianato con botteghe aperte, dimostrazioni di maestri ceramisti visite guidate, concerti e anche l'inaugurazione della mostra l'arte di Enzo De Rosa. Buongiorno Ceramica è una manifestazione nazionale la festa italiana della ceramica è una manifestazione promossa dall'ICC Associazione Italiana Città della Ceramica e questa manifestazione si svolge 3, 4 e 5 giugno in tutti i 37 centri di tradizione ceramica italiana tra cui Castelli ha un ruolo di primo ordine l'unico centro abruzzese. Un'opportunità per poter visitare queste botteghe artigiane che Castelli ancora hanno dei segni addirittura di 5 secoli fa tipo l'antica fabbrica di Antonio Di Simoni la vecchia bottega Maglioli Cara ci sarà la recensione di questo famoso forno al respiro che è l'ultimo rimasto e poi in questi tre giorni si avrà modo di apprezzare ancora i segreti del Cinquecento di come si realizza questa produzione che è l'unica che nessuno ci riesce ancora a copiare. Oltre alla possibilità di visitare il museo che sarà aperto tutti e tre i giorni della manifestazione e il nostro liceo il liceo artistico Francesco Antonio Gruwe che sarà aperto anche la domenica per poter visitare tra le altre cose oltre al liceo il presepe monumentale che è presente all'interno del liceo e la raccolta internazionale di ceramiche. Quindi tutto questo ha lietato da spettacoli musicali quindi saranno tre giorni molto vivaci. Studenti ma anche docenti tutti invisibilio per il testimonial del CONI Andrea Lucchetta testimonial all'interno del progetto CONI Ragazzi l'obiettivo è un sano stile di vita la pratica dello sport come gioco e come filosofia l'aggregazione e l'abbattimento delle barriere di qualsiasi tipo. Ascoltiamo proprio l'ex pallavolista della Nazionale in questa intervista. I ragazzi a questa età non devono vivere esclusivamente la pallavolo devono comunque imparare a capire come un atleta di riferimento un ambassador CONI per il Rio 2016 e soprattutto un animatore da questo tipo di contaminazione andando a far spiegare loro dal mio punto di vista quanto sia bello e pregnante avere una spiritualità diversa che passa attraverso la filosofia del sorriso ma soprattutto unendo lo sport la scuola e perché no situazioni che nel tempo possono aver dato piacevoli vittorie conseguimenti di risultati ma loro è un obiettivo da raggiungere l'obiettivo loro aggiungono al punto di vista scolastico se nell'apprendimento riescono ovviamente ad essere stimolati a divertirsi come si devono divertire sui banchi di scuola a maggior ragione all'interno della palestra all'interno di una giornata di questo tipo si divertiranno a ascoltare mentre un animatore che cerca di rianimare in loro se per caso qualche bimbo l'avesse perso la voglia di sorrisere e se tu dai tanta energia sorridendo probabilmente ecco se il bambino poi alla fine rimane contento te la restituisce ed è questa la cosa che mi continua a far piacere nella mia attività ti dico ho visto sorridere più di 400.000 bambini ho fatto 1.200.000 palleggi ho fatto 50.000 animazioni di classe e la cosa più bella in assoluto è che nessuno di quei bambini è andato via piangendo perché ancora non lo so andiamo avanti adesso apriamo la pagina dello sport ovviamente il calcio di Serie B in primo piano il playoff del Pescara ieri vittoria per 4-2 contro il Novara di Baroni nella semifinale di ritorno all'Adriatico Cornacchia festa per i biancazzurri che così si preparano alla prossima gara interna nella finale d'andata contro il Trapani di un altro ex allenatore Cersei Cosmi vediamo il servizio della partita di Paolo Renzetti tutto come previsto il Pescara non si ferma dopo il 2-0 dell'andata rifila un secco poker alla Novara di Marco Baroni si parte davanti ad una cornice di pubblico da Serie Superiore sugli spalti dell'Adriatico ci sono 17.000 cuori biancazzurri nel settore ospite appena 70 coraggiosi sostenitori piemontesi il match è affidato al signor Abisso di Palermo nel Pescara non c'è Memushain ritiro con la nazionale albanese e Torreira a riposo in campo Bruno con Ben Ali retrocesso sulla linea dei centrocampisti con Pasquato a fare da spalla Caprari sarà proprio l'ex Livornese il giocatore decisivo nel Pescara per il Novara non c'è lo squalificato Trestal suo posto Vicari con Dickman in campo dopo aver scontato il turno di squalifica in avanti Calabino preferito ad evacuo dopo lo 0 a 2 dell'andata tutti si aspettano un Novara all'assalto invece pronti via e al secondo è già festa Biancazzurra con il lancio al bacio di Pasquato per la Padula che fa secco da costa la reazione degli ospiti è rabbiosa al quinto Calabino in area si gira e conclude però centralmente ma il Delfino è più che mai pimpante al nono infatti Caprari dai 30 metri colpisce in pieno la traversa con da costa abbattuto al tredicesimo ancora la Padula questa volta di testa a mettere il pallone di poco fuori misura i ragazzi di Massimodo non sono paghi al sedicesimo e Pasquato ancora lui a sfiorare il raddoppio con un tiro di un soffio fuori al ventesimo si rivede poi la squadra ospite con un tiro insidioso di Gonzales deviato in calcio d'angolo ma per il Novara non è serata e così arriva puntuale il raddoppio griffato da Pasquato che al volo su cross perfetto di Benalì mette ancora alle spalle dell'incolpevole da costa facendo esplodere la gioia dei tifosi sugli spalti la finale ormai dietro l'angolo con i tifosi che iniziano a fare le prove generali in vista della finale di andata il Novara fa quello che può con il Pescara che accenna anche un principio di Melina prima della rete di Lanzafame lo scadere del primo tempo che in fuori gioco mette alle spalle di Fiorillo che tocca il pallone ma che non riesce a trattenere nella ripresa si ricomincia dal 2-1 e da uno spavento all'undicesimo quando Lanzafame chiama la parata difficile Fiorillo che dimostra una grande reattività il 2-1 regala però grandi certezze al Delfino che fa girare il pallone con Oddo che fa riposare Verre e Caprari mandando poi in campo Selassie Verde al diciannovesimo arriva una munizione pesante per Zampano che va in diffida facendo letteralmente imbestialire il suo allenatore che si arrabbia per l'ingenuità del ragazzo di origine ligure poi il pareggio a sorpresa al ventottesimo di Buziegoli con la complicità di Fiorillo prima del finale pirotecnico con gloria ed applausi anche per Daniele Verde che al trentacinquesimo su assist ancora di Pasquato segna la rete del 3-2 e al quarantottesimo firma il poker con un tiro potente sotto la traversa il trapani dell'ex Cersei Cosmi è avvisato domenica prossima in un adriatico stracolmo bisognerà cercare di lasciare subito il segno in vista del ritorno al provinciale infatti è partita oggi la prevendita dei biglietti per la finale di andata tra Pescara e Trapani prelazione per gli abbonati e vendita per i non abbonati in contemporanea la prelazione dà diritto all'acquisto del proprio posto stagionale oltre allo sconto del 25% e sarà attiva sino alle 12 di venerdì con al termine la rimessa in vendita libera dei posti non prelazionati i tagliandi possono essere acquistati in tutte le rivendite ufficiali inoltre il botteghino lato curva nord sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 e adesso andiamo a sentire le impressioni dopo gara dei due allenatori Oddo e Baroni abbiamo un obiettivo grande siamo a due passi da un sogno ai ragazzi prima delle semifinali avevo detto che c'erano quattro passi da fare un grandissimo campionato e quindi se ha fatto quello che ha fatto è perché ha dei valori con una massima umiltà il massimo rispetto ma consce e consapevoli di quello che abbiamo fatto di quello che abbiamo costruito e di quello che possiamo fare Simoddo alla vigilia di questa gara aveva chiesto quasi preteso una prova di maturità dai suoi ragazzi questa prova di maturità mi sembra sia arrivata sì sì abbiamo fatto una partita e mezza strepitosa cioè la partita di Novara e il primo tempo di oggi credo che sia stato fantastico poi nel secondo tempo il calo era inevitabile no vabbè ma non è non è stato un calo fisico è stato un calo mentale è inevitabile è vinto 2-0 sei avanti 2-1 2-0 2-1 in casa la tensione va scemando ci avete provato però sì sì ci abbiamo provato ma principalmente anche giocare dopo l'1-0 dopo pochi minuti era difficile però questa squadra ha avuto orgoglio ha saputo comunque provare a rimettere in piedi una partita addirittura provare anche a vincerla così non è stato però va bene io quello che ho detto prima ringrazio tutti i miei giocatori e questo gruppo straordinario e vediamo adesso farà un po' il tifo anche per il Pescara in questa finalissima o guarderà questa doppia partita con occhio di scattare? no io guarderò con l'occhio di chi sa che ci sono due squadre che entrambi io credo abbiano un 50% per andare su quindi sarà veramente una sfida interessante buone notizie in casa Lanciano da ieri e di ieri scusate la decisione favorevole della Corte di Giustizia del Coni che ha respinto il ricorso della Procura Generale e di quella federale dunque i frentani rimangono a 44 punti in classifica e affronteranno nel play-out di andata la Salernitana allo stadio Guido Biondi indisponibile però Nicola Ferrari a cui è stata confermata la squalifica di due turni il servizio è di Jacopo Forcella a Lanciano si tira un sospiro di sollievo non definitivo ci mancherebbe perché c'è da battere ancora la Salernitana ma intanto la doppia sfida contro il Granata ci sarà infatti ieri la seconda sezione del collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Generale e dalla Procura Federale contro Di Menno di Bucchianico e la Virtus Lanciano dunque rimane inalterato quanto deciso dalla Corte Federale d'Appello lo scorso 13 maggio niente penalizzazioni la Virtus rimane a 44 punti in classifica e ora i rossoneri potranno perciò giocarsi 180 minuti più importanti della stagione ricacciando il Lega Pro lo spettro del Livorno che sperava in una ulteriore condanna dei frentani per cercare di salvarsi dal baratro della Serie C buona notizia per il Lanciano dunque che domani Albiondi proverà a giocarsi le proprie carte contro la Salernitana l'unica notizia non proprio positiva invece per Maragliura è il fatto che dovrà fare a meno nel reparto avanzato di Nicola Ferrari perché tra i vari ricorsi respinti ieri c'è anche quello della Corte d'Appello contro la squalifica di due giornate dell'attaccante che salterà perciò il play-out contro i campani tutto questo nonostante il sodalizio ferrentano avesse posto l'accento sulla inapplicabilità della prova televisiva ma evidentemente come spesso accade in un'ottica di compensazione per una decisione favorevole ne arriva puntualmente una contraria sarà emergenza davanti per il tecnico rosso-nero costretto a fare a meno anche di Di Francesco e Giannonato ma a questo punto Maragliura più che agli uomini dovrà puntare sullo spirito e sulla voglia di mantenere una categoria che in inverno sembrava già persa poi miracolosamente conquistata e che stava di nuovo per sfuggere di mano l'appendice play-out sarà l'ennesimo esame da non fallire perché stavolta possibilità di rimediare proprio non ce ne sono Ed ora scendiamo in Lega Pro perché questa mattina in casa Teramo è stato presentato il nuovo tecnico Lamberto Zauli contratto di un anno per l'ex allenatore del San D'Arcangelo da oggi comincia ufficialmente il dopo Vivarini quando mi ha chiamato per la prima volta il Teramo a parlare mi sono girato verso i miei collaboratori e ho sperato che scegliessero me perché come sono venuto per la prima volta a Teramo l'anno scorso ho respirato subito aria di calcio di società importante molto organizzata e quindi anche solo questa presentazione lo dimostra quindi io non ho avuto nessun dubbio anzi ero lì a sperare che il presidente e il direttore scegliessero me perché intravedo in loro e nelle organizzazioni di questa società grandi cose nei nostri incontri sono usciti veramente pochissimi nomi ma ho letto anche in qualche giornale questi sono giocatori che ho allenato a cui devo veramente tanto perché se oggi sono qui non è merito mio ma è merito del San D'Arcangelo che è una piccola società che lavora molto bene grazie a tutti i ragazzi che ho allenato perché mi hanno dato sempre grande disponibilità quindi i risultati dell'anno scorso è merito di tanti di questi ragazzi se non tutti e questi sono stati dei giocatori importanti l'anno scorso ma valutiamo loro come ne valutiamo tanti l'incontro di Guidolin per me nella mia carriera è stato fondamentale a casa ho la sua foto quella di mia moglie quella dei bambini nel senso che mi ha insegnato mi ha insegnato veramente tutto l'ho avuto la prima volta che avevo 19 anni l'ho rivuto a 30 parlo della carriera da calciatore quindi mi ha avuto bambino mi ha avuto diciamo uomo quindi mi ha insegnato tantissimo quindi lo reputo veramente un artefice importantissimo per la mia carriera da calciatore secondo me quello che va trasmesso alla squadra perché è la squadra che deve portare gli obiettivi deve essere il sognare di arrivare a quegli obiettivi lì l'umiltà assoluta non pensare mai che la cosa possa essere facile perché questi campionati stanno diventando sempre più selettivi quindi secondo me sarebbe stupido darci degli obiettivi sicuramente chi è seduto qui e chi è seduto dall'altra parte vuole vedere il Teramo sempre vincere però noi dobbiamo costruire una squadra che vuole giocarsi tutte le partite con grande coraggio questo è il mio grande obiettivo poi dipende dalla qualità mia la qualità dei giocatori il carattere la determinazione sono tante le componenti che determinano una squadra vincente o no il mio compito è quello di farla di creare una squadra vincente nella mentalità poi la posizione di classifica ce la dovremmo meritare sul campo e adesso parliamo dell'Aquila perché ci sono state delle recensioni consensuali dei contratti per i tesserati Marco Bigoni Alberto De Francesco Claudio De Sousa Dennis Di Mercurio Manuel Mancini Giordano Maccarone Simone Piva Francesco Scotti Vittorio Triarico e Giovanni Zandrini per quel che riguarda invece lo staff tecnico ci sono state le risoluzioni anche per l'allenatore Carlo Perrone per il vice Tommaso Griglie per il preparatore atletico Emiliano Notarmuzzi ovviamente tutto questo è conseguente alla retrocessione dei Rosso Blu in Serie D adesso invece parliamo di arti marziali sarà il 23enne Simone Cancelli di Vacri a rappresentare l'Italia ai campionati mondiali di arti marziali miste che si terranno a Las Vegas un abruzzese che si farà onore a Las Vegas ai campionati del mondo di arti marziali miste parliamo di Simone Cancelli che arriva da Vacri piccolo centro in provincia di Chieti emozionato a rappresentare l'Italia in questi mondiali sì abbastanza emozionato e soprattutto contento di questa occasione che fortunatamente sono riuscito a cogliere il tutto si svolgerà a Las Vegas come diceva lei partiremo il 3 luglio e torneremo l'11 speriamo di riportare a casa qualche un buon risultato ecco Angelo Poppeo è l'istruttore di Simone Cancelli vogliamo innanzitutto spiegare che cosa sono questi arti marziali miste sì l'arte marziali miste è una fusione di più stili che comprendono la box occidentale la Thai box Brazilian Jiu Jitsu e lotta libera diciamo che può essere riassunto così una fusione di più stili Las Vegas vogliamo spiegare cosa accadrà quanti incontri ci saranno come funzionerà anche un po' il regolamento sì sarà una competizione eliminazione diretta quindi diciamo che non ci sono margini di errore possiamo essere sui 5-6 incontri fino ad arrivare in finale diciamo la media sperando e ce la metteremo tutta di non uscire prima di non uscire i primissimi round possiamo dire però Angelo che è già un successo come direbbe qualcuno arrivare a disputare i mondiali a Las Vegas è un'enorme soddisfazione perché c'è una selezione molto rigida e devi praticamente vincere le varie competizioni per poi candidarti quindi sì è un'enorme soddisfazione è tutto per l'edizione delle 14 del TG6 io vi ricordo i prossimi appuntamenti alle 19 alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata buona giornata buona giornata Grazie a tutti.